E dunque è giunto il momento di dare la linea alla nostra super inviata, Sor Maria Vittoria, per proseguire il viaggio iniziato la settimana scorsa alla scoperta delle suore della Casa di San Giuseppe. Siamo qui di nuovo dalle suore Pia Operaia di San Giuseppe. La settimana scorsa abbiamo parlato con Sor Felicita di quello che è il loro istituto, la loro missione nella Chiesa. Oggi invece vogliamo chiedere Sor Felicita come è nata la sua vocazione, perché non tutti sanno che Sor Felicita è una vocazione adulta, è una vocazione straordinaria che oggi cercherà di raccontarci con tanta emozione che sente nel cuore anche oggi, ancora oggi diciamo così. Però molto interessante Sor Felicita è quello che tu mi hai raccontato la volta scorsa, di come hai conosciuto le suore e cosa facevi prima di entrare, no? Che come era la tua vita? E' una donna pietosa o piuttosto una donna del mondo? Mondana perché poi dopo sono arrivata tardi. Io lavoravo al supermercato, poi dopo, conoscendola di Marista, non so, dell'opera francescana. Una figlia spirituale di padre e figlio. Grande figlia spirituale di padre e figlio. Poi lì praticamente sono entrata nell'opera terziara francescana laica, perché l'ordine francescano. E ho fatto un cammino, un discernimento, un cammino proprio con lei, proprio la parte spirituale, proprio ho cambiato. È stato come un bambino, no? Quando inizia a camminare i primi passi con la mamma e così spiritualmente. Mi ha portato proprio ancora di più a mare, proprio il Signore. Quindi hai conosciuto il Signore attraverso questa figlia spirituale. Sì, sì. Quindi prima non eri praticante, non conoscevo Gesù. È lei che proprio mi ha formato come un bambino. Sì, quello è bellissimo. Poi di lì ho vissuto con lei, continuavo ad andare a lavorare e facevo volontariato lì nell'opera francescana con gli anziani, perché lì erano una cinquantina di anziani, autosufficienti, però chi si ammalava rimanevano lì, si accudivano. Era quasi tutto volontariato, lì esce i francescani. Poi di lì praticamente io andavo a lavorare e poi tornavo, perché facevo turni al supermercato, tornavo e davo il mio servizio lì nell'opera francescana, quella di Marista. Sempre con questi anziani che accudivi. Anziani, così. È stato un discernimento piano piano, un cammino piano piano spiritualmente. Dopo, nel 98, Marista è morta qui all'ospedale, qui, Casa Soglievo della Sofferenza, nel 98 di maggio. Però lei chiedeva sempre le suore e le suore più operai di San Giuseppe. Erano state, cioè, a lei, padre e figlio, cioè, suggeriva le suore più operai di San Giuseppe. Come aiuto. Come aiuto nell'opera francescana. Però queste suore non erano mai arrivate in quel tempo lì. Quando Marista è morta a San Giovanni Rotondo, che la madre allora era suor Marta, Lombardi, andò a trovarla all'ospedale e gli disse al capezzale del letto, gli prometto che gli manderò le suore a Campi, nell'opera francescana, le più operai delle sue suore. Allora, lei è morta nel 98 di maggio, 1998, l'8 maggio. Le suore più operai di San Giuseppe sono entrate nella Casa Francescana il 21 gennaio, che è il 21 gennaio di 99, della nostra fondatrice. Allora, le suore sono, cioè, io di lì ho iniziato proprio a conoscerle, non soltanto di conoscerle, però il suo, il suo modo, il lavoro, il loro lavoro, come lo svolgevano. Anziani, proprio questa dedizione totale, proprio come l'amore, come parla il Vangelo, l'amore di Dio, proprio con questo amore, si chinavano proprio sull'ammalato, sui bisognosi giorno e notte. Quante volte l'ho vista io di notte. Sei stata toccata proprio da questo servizio amoroso, allora. Servizio amoroso, attivo proprio, quando uno si dedica totalmente. Io, e mi ha ancora, proprio lavoro e preghiera, lavoro e preghiera. Anche accusavano gli anziani, portavano alla missa le funzioni, proprio una cosa, mi ha colpito tanto. Come se fossero loro genitori. Forse, non lo so, veramente più, tanto, tanto, ma veramente. Con amore, con dedizione. E questo carisma, perché il carisma delle più operarie di San Giuseppe è lavoro e preghiera. Siate, la fondatrice, ritorno alla fondatrice delle più operarie di San Giuseppe, la nostra fondatrice, Cioè, siate umili, umili, non ambite mai a cose alte, umili, servizievole, amate, lodate Dio e il prossimo. E lo spirito di sacrificio. Con tanta dedizione, questa è tantissima. Ecco, è lì che ho scoperto la vocazione. O forse mi sono, ho sentito proprio, di lasciare, di proprio, di consacrarmi totalmente a Cristo. Grazie a questo esempio, diciamo. A questo esempio delle suore più operarie di San Giuseppe. Non credevo, veramente, pure adulta di età. Però è la superiore a lei allora, suor Dolores, c'era anche suor Domenica, altre suore. Io, cioè, il mio desiderio, io glielo ho... Espresso. Espresso. E lei cercava sempre di dire, ma no, io mi chiamo Franca, non so, felice. Ma no, Franca, fai tante cose buone, belle. Ma no, cioè io e una mamma, avevo una mamma di 83 anni. Non credevano quasi quasi nella tua vocazione. Eh, no, no, fai tante... E io, no, suor Dolores, io sento... Non basta, non è questo. Ancora di più. Ancora mi devo consacrare totale a Cristo. Totale, lasciare tutto. E così, dopo del tempo, mi seguiva anche Don Giovanni Baldi, lì dell'Opera, e col tempo, praticamente, col tempo, dei mesi, pregare molto, insomma... Hai fatto discernimento. Ho fatto discernimento. Ho lasciato, mi sono licenziata sul lavoro e sono entrata nelle più operai San Giuseppe e mi hanno accorto veramente con tanto, tanto amore. Sì. E sono felicissima di... Che sicuramente non era facile essere felice perché certamente all'età adulta non è stato facile entrare. È vero, è vero. Sì. E poi anche stare... Non è stato facile cambiare tutto, la mentalità e il pensiero tuo. No, no, non è stato facile, ma è stato talmente forte, bello. È una cosa... Che sei riuscita a superare ogni ostacolo, no? Grazie a Dio. A Dio. È Lui che fa... Ha cambiato tutto, la mente, il cuore, tutto mi ha cambiato, veramente. Sono felicita bellissimo, perché sappiamo che la vita comunitaria non è facile, specialmente per le persone adulte. Sì, ma però ho trovato proprio l'amore. Sì, sì. Perché questo era il tuo posto nella Chiesa, ecco qua. Ci può essere, però ho trovato proprio questo amore, vero proprio. Ma poi questo sacrificio, donarsi e so stare agli altri. Mamma mia, che bello. E poi anche lavoro sui bambini, come lavorano le scuole, sui bambini. Proprio persino chiamano mamma, i bambini. A me mi ha colpito tanto, sono stata... Mi ha preso tutto, veramente, mi ha colpito. Non so come spiegare, è proprio una cosa stupenda. Bellissimo, so felicità. Allora, dopo questo bellissimo racconto, veramente, se c'è qualche ragazza che adesso, mentre ti sente qua e sente questa bella testimonianza, vorrebbe fare un'esperienza, un percorso o sapere qualcosa di più del vostro istituto, dove si potrebbe rivolgere per attingere queste informazioni e anche provare questa bella esperienza con delle persone bisognose. C'è un sito che avete... Sì, della Casa Generalizia, il sito... Casa Generalizia dove si trova? Firenze. A Firenze, sì. C'è la nostra fondatrice. Sì, 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 è la Casa Generalizia, quindi eventualmente loro, chi vorrebbe prendere l'appuntamento o chiedere più informazioni, potrà rivolgersi qua, qui scorrono anche i nominativi e poi possono anche leggere e prendere contatto. Grazie e grazie a tutti, grazie, so felicità per questa bella testimonianza. Grazie, grazie a tutti, che Dio vi benedica a tutti. Il Signore vi benedica a tutti quanti. Grazie a tutti quanti, veramente, la benedizione di Dio, grazie, veramente di cuore. Grazie a te, so felicità. Buona e santa giornata a tutti, pace e bene, alla prossima.